Gentili telespettatori, buona giornata. PD e Movimento 5 Stelle non sanno fare nulla, dice il candidato sindaco per Roma del centrodestra, Michetti, parlando di rifiuti. Abbiamo la sindaca, il vento del cambiamento dei 5 Stelle, e poi abbiamo l'uomo che ride, il fratello del commissario Montalbano, presidente della regione. Due partiti che non sono riusciti a raccogliere la spazzatura a Roma. Ebbè, incredibile. Poi abbiamo sentito anche la Lucarelli, Selvaggia Lucarelli, in vacanza noto, dice non raccolgono la spazzatura. E allora è un vizio, e allora è un vizio. Ma provate ad andare in tutta Europa, ma dove trovate i cumuli di spazzatura? Ma dove? Ma che vergogna! I turisti che vengono in Italia dicono che paese sporco, è tutta spazzatura, le infezioni. Mamma, ma che vergogna! Come si fa a giustificare uno all'estero quando ti dicono ti è piaciuta l'Italia? Eh sì, monumenti, beh ho trovato un po' di spazzatura. Eh, un po', eh, un po'. Da nord a sud, da est a ovest. E così Enrico Michetti se la prende con PD e 5 Stelle. Ha giusta ragione. Dice nella capitale l'emergenza rifiuti è sempre più grave e il candidato del centrodestra dà la responsabilità sull'immobilismo della sindaca del cambiamento e della regione. PD e 5 Stelle sono al governo di Roma e Lazio e per loro il futuro dovrebbe essere oggi, dichiara Michetti in collegamento col Tg4. Il piano rifiuti prevede la creazione degli impianti e la raccolta differenziata, ma non si fa nulla di tutto questo. Oggi chi ha il potere non fa nulla. Noi possiamo promettere l'apertura dei siti di stoccaggio, ma loro perché restano fermi? Why? Perché? Ce lo stiamo chiedendo anche noi. Perché il vento del cambiamento, no? La sindaca, il vento del cambiamento non fa nulla. Secondo i grillini, guai parlare male della raggi o di travaglio. Non avete visto? Quando io provo a fare qualche video sulle cose che dice la raggi, tutte da ridere, o su travaglio, l'innamorato di Conte, si scatenano i grillini. L'esa maestà, come hai potuto dire della raggi questo? O di travaglio? Ma che vuol dire? Ma che ve ne entra a voi? Se avete un sindaco che non funziona, cari grillini, dovete avere l'onestà di dire non funziona, mandatela via subito che ci fa fare una figuraccia. Travaglio, l'innamorato di Conte, ma non si può gestire un giornale facendo l'innamorato di Conte, dai. Anche i grillini stessi, un po' di... vabbè, un po' di... insomma. Credo che il prossimo sindaco di Roma non lo sceglieranno i giochi di palazzo, lo sceglierà il cittadino di Roma, che voterà in maniera libera e consapevole. Cittadini di Roma, votate in maniera consapevole. Volete ancora il vento del cambiamento? Mando sta sto vento, mando sta sto vento. Vabbè. Intanto, credo che ci sia bisogno di collaborazione di lealtà, dice Michetti, intervenendo al TG4 in merito a possibili accordi PD-5 Stelle al ballottaggio. Eh, il ballottaggio, lo sballottament del ballottaggio. Ma sentite un poco, ma... romani. Cittadini di Roma, della città metropolitana. Ma non... c'è questo Michetti. Sembrerebbe una persona di buona volontà, un esperto di amministrazione comunale. Una persona che sa il fatto suo, esperto di diritto amministrativo, consulente di parecchi comuni. Volete paragonarla con Gualtieri, l'anonimo politico del PD? Pensate che c'è addirittura una corrente. Gualtieri dice, io c'ho la corrente. C'ha la corrente nel PD, Gualtieri. Dite, ma quello lì? Quello lì. Ecco, pensate veramente che Gualtieri possa risolvere... Gualtieri è un altro Zingaretti. È un altro uomo che ride... Zingaretti ride, questo suona la chitarra, vi canta bella ciao, in comune, siete tutti contenti. Oppure veramente volete riconfermare il vento del cambiamento? Il vento del cambiamento? La tirocinante fatta sindaco? Con tutto il rispetto per i tirocinanti, però se tu fai il tirocinio in uno studio di avvocato, non puoi dal tirocinio andare a fare il sindaco di Roma, no? È come se io finisco all'università e dopo un mese mi fanno sindaco di New York, di Detroit. Dice, ma qual è il tuo curriculum? Nessuno. Io sono il vento italiano del cambiamento. Sono il sindaco di Detroit, di Indianapolis. Ma che film avete visto? Ma veramente, italiani, romani, ma quando avete eletto il vento del cambiamento, ma che film stavate guardando? Ma dai, ma non scherziamo, ma non si può prendere una persona neolaureata che fa il tirocinio da un avvocato e sbandierare per tutto il mondo, è arrivato il vento del cambiamento. Ma quale vento? Ma dai! Ma come si può pensare che una persona senza esperienze lavorative, neolaureata... Se non hai esperienze lavorative, come fai a gestire una capitale? Ma insomma, non ci vuole un genio per capire una roba del genere, eh? Una volta ho parlato con una maestra di inglese, che di politica ne sa tanto al tanto niente, e mi dice, questo tanti anni fa mi fa, eh Luca guarda che non si può fare politica con l'inesperienza. No. Gli inesperti in politica assolutamente no. Ti fanno un disastro, ti distruggono tutto. È così, è stato. Adesso avete, cari romani, la possibilità di rimediare al vento del cambiamento, eh? Sono stati persi cinque anni, si può recuperare, si può presentare la città e i turisti com'è, la capitale millenaria italiana, non la capitale dei cinghiali, della spazzatura, dei buchi, della gente che dorme nei parchi con le tende, nella pericolosissima stazione Termini, nel litorale abbandonato tra le dune, la sporcizia, e dai, i parchi pubblici che sono deteriorati, non curati, con gente che si aggira tra i cespugli, caspiterina, cioè bisogna dare dignità. Roma è la città più bella del mondo, è la città più bella del mondo, c'ha pure il mare, c'ha pure il mare, e viene trattata così dal vento del cambiamento? Ma per favore, Romani, su, schiena dritta quando si vota, eh? Tanto, anche quelli che votano la Raggi per il reddito di cittadinanza, la Raggi non vi salverà il reddito di cittadinanza, i prossimi che arrivano a governare, la prima cosa che fanno è cancellarlo, pertanto lasciate perdere il vento del cambiamento per il reddito di cittadinanza, eh? Non c'è trippa per gatti, io, vabbè, per i cinghiali magari. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata.